Questo provoca un miglioramento del malato, del paziente, della persona, quindi che non serva soltanto a attenuare, alleviare la sofferenza in un momento di difficoltà, in un momento di fragilità, ma davvero possa servire a migliorare le capacità di cura. Pare che anche il luogo, il modo in cui si affronta la malattia possa essere di giovamento o una guarigione, quindi credo che debba avere non soltanto dal punto di vista welfare, ma anche un'attenzione dal punto di vista scientifico che questo dovrà essere valutato ovviamente dai competenti.